Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi tutorial in collaborazione con BB Craft, andremo a realizzare un bracciale unisex che ho chiamato Fake Harry. Ho utilizzato queste bellissime ovaline in conchiglia prese dal sito di BB Craft, questo è il codice e sono davvero strepitose, vi lascio il link anche in descrizione. Poi avevo anche preso queste bellissime ovaline sfaccettate, misura sempre 6x4 mm. Per realizzare il bracciale Fake Harry ve ne occorrono esattamente 13 ovaline. Vi mostro il bracciale ed eccolo qui, è davvero un bracciale davvero molto carino, unisex come dicevo prima, questo è il risultato appunto al polso, davvero molto molto carino e l'ho chiamato in questo modo perché inizialmente sono partita con la lavorazione Herringbone, poi durante la lavorazione ho fatto delle prove, ho sperimentato un pochettino e quindi è saltato fuori questa sorta di fake Herringbone perché vi posso assicurare che in alcuni punti non è Herringbone, però vedendolo così a primo sguardo sembra appunto tutta la lavorazione Herringbone, poi vedrete ovviamente il procedimento con il tutorial. La resa di questo bracciale è davvero molto carina e mi piace davvero tanto, vi consiglio di utilizzare un filo di nylon trasparente perché ho provato inizialmente a realizzare un bracciale Total Herringbone e quindi il filo, vedete, si nota tantissimo, quindi vi consiglio appunto di utilizzare un filo di nylon in modo da non far vedere, vedete, il filo si va in qualche modo a nascondere durante la lavorazione. Per quanto riguarda poi le altre decorazioni che ho aggiunto, ho aggiunto appunto gli anellini come estensione anche di catena e ho utilizzato questi qui sempre presi dal sito di BBcraft, sono degli anellini in acciaio, poi ho utilizzato come moschettone sempre questo qui preso sempre da BBcraft in acciaio anche lui, poi per quanto riguarda i terminali, questa parte finale ho aggiunto qui una perlina in onice da 6 mm, questo è il codice preso sempre appunto dal sito di BBcraft, sono di grado AA e poi per quanto riguarda questo pendente qui, questo charms qui, sempre preso appunto dal sito di BBcraft, sono sempre in acciaio e ci sono diverse forme, vedete, ci sono gli ovali più grandi più piccoli, queste piastrine più grandi più piccole, c'è anche il cuoricino, c'è diversa scelta e poi vi occorre anche ovviamente un chiodino con terminale pallina per la perla qui in onice e ho scelto questi qui che sono appunto placati in oro 24 carati con il terminale a pallina, questi sono tutti i materiali appunto per realizzare il bracciale fake herry, io spero che questo tutorial sia di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io vi lascio al tutorial, ciao! Primo passaggio, inserite due rock a 11.0 della toko sul vostro ago, le portate alla fine del filo, rientrate in tutte e due le perline andando in direzione opposta, in questo modo, e ripassate nuovamente nella prima perlina e questo è il risultato, vedete, avremo appunto queste due perline posizionate appunto in questo modo, affiancate. Adesso inserite sul vostro ago esattamente un'altra perlina, io fuoriesco con il filo dal basso e quindi l'infilo dall'alto verso il basso e questo è il risultato, ho inserito esattamente un'altra perlina sul mio lavoro, quindi ho esattamente tre perline. Adesso rientro nell'ultima perlina, questa qui appena inserita, dal basso verso l'alto, in questo modo e vado ad aggiungere nuovamente una nuova perlina sul mio ago, quindi una nuova perlina e quindi siccome il filo va verso l'alto, io mi rinfilo dal basso verso l'alto, sempre nella medesima perlina, da dove fuoriesce appunto il nostro filo. In questo modo ho aggiunto anche la quarta perlina, vedete la quarta, e adesso arrivato anche nell'ultima perlina andando verso il basso, in modo da fissarla per bene al lavoro e quindi avremo esattamente queste quattro perline. Non ci fate caso se al momento non sono tutte affiancate, possiamo anche ripassare nuovamente in queste perline andando prima dal basso e poi andando verso l'alto, in modo da ripassare per bene e affiancare per bene queste quattro perline, in questo modo, vedete? Sono ripassata in tutte le perline e questo è il risultato. A questo punto il mio filo fuoriesce dalla prima perlina, da questa. Inserisco due rocaille sul mio ago, due, ed eccole qui, rientro nella seconda perlina, questa, rientro nella seconda perlina, aggiusto le due rocaille in questo modo e ripasso con l'ago anche nella terza perlina, andando dal basso verso l'alto. Inserite altre due rocaille e rientrate nella quarta perlina, andando dall'alto verso il basso. Questo è il lavoro al momento. Stiamo lavorando appunto in herringbone, quindi adesso ripasso nuovamente in queste due perline andando verso l'alto, in queste due, riscendo in queste due e risalgo nuovamente in queste due perline iniziali del lavoro. Ed ecco qua, sono risbucata appunto da queste due perline. Adesso nuovamente sul nostro ago e sul nostro filo due rocaille, rientro soltanto nella seconda rocaille del secondo giro, rientro solo in questa, aggiusto le perline. Questo è il risultato. Adesso rientro nella terza perlina, andando verso l'alto. inserite nuovamente nella quarta perlina andando verso il basso. Questo è il risultato e ho esattamente realizzato tre file lavorate in herringbone. A questo punto ripasso anche nell'ultima perlina, cioè in questa. Ripasso anche nella seconda perlina sempre del primo giro, riscendo nella terza perlina sempre della prima fila e risalgo ovviamente in queste tre perline. Adesso inserisco esattamente un'ovalina e due rocaille 11.0. Le porto alla fine del filo ed eccole qua. Rientro solamente nell'ovalina e rientro nella seconda rocaille del terzo giro. Tiro il lavoro, aggiusto le perline qui in alto, le schiaccio in questo modo e questo è il risultato. Adesso ripasso anche nel terza perlina andando verso l'alto. A questo punto vado a realizzare il fake herringbone. Quindi inserite esattamente 10 rocaille sul vostro ago. Ecco le 10 rocaille 11.0 e rientro ovviamente nell'ultima perlina andando verso il basso. E questo è il risultato. Adesso vedete io sono nella nella quarta perlina, rientro nella terza e rientro nelle prime cinque rocaille 11.0. Quindi rientro nelle prime cinque. Ed eccole qua. Rientro nell'ultima e nelle prime cinque rocaille 11.0. A questo punto rientro con l'ago nelle altre cinque rocaille dell'altro lato. Ovviamente stiamo parlando solo delle cinque rocaille qui in alto. Quindi risalgo nelle prime quattro dell'altro lato. Ed eccomi qua. Sono risalita nelle prime quattro. Riscendo anche in questo caso salto queste due perline qui in alto e riscendo in queste altre quattro rocaille. In queste quattro. Ok, tiro bene il filo. Risalgo nelle prime tre rocaille. Andiamo man mano a scalare per creare appunto il fake herringbone. Quindi risalgo nelle prime tre e riscendo in queste altre tre parallele. Vedete? Tiro bene sempre il filo. Risalgo in queste due e riscendo in queste due rocaille sempre parallele. A questo punto io sono in quest'ultima perlina. risalgo di una e risalgo di una e riscendo di una. E riscendo anche nella perlina in basso quella lavorata appunto in herringbone. E questo è il risultato. Sono ripassata più e più volte all'interno di questa lavorazione per ricreare il fake herringbone. A questo punto da questa perlina lavorata appunto in herringbone, queste tre vedete, ripasso solo nella terza rocaille lavorata in herringbone, ripasso anche nella seconda lavorata ad herringbone e ripassate anche nella prima rocaille lavorata ad herringbone, sempre del terzo giro. Quindi esattamente sono in questa perlina qui laterale. Inserite 5 rocaille oro e rientrate in questa perlina qui in alto, quella esterna all'ovalina. E tirate il filo. E questo è il risultato. Vedete? A questo punto inserite due rocaille 11.0 e rientrate nella seconda perlina posta sopra l'ovalina. E andiamo a realizzare nuovamente i passaggi in herringbone. Quindi ripassate anche nella terza perlina questa qui sporgente qui in alto del fake herringbone. Adesso di nuovo due rocaille e rientrate nella quarta perlina del fake herringbone. E questo è il risultato. A questo punto io sono in questa perlina qui, rivado nella terza andando verso l'alto e tiro bene il filo, ripasso nella seconda questa andando verso il basso. Seguite sempre il filo. Ok? E ripassate in queste due andando verso l'alto. Ok? E questo è il lavoro al momento. A questo punto andremo a fare un'altra riga fatta in herringbone. Vedete? Perché l'inizio del lavoro sono appunto tre righe. Quindi andremo a fare un'altra riga in herringbone, quindi due rocaille e rivado nella seconda perlina e aggiusto le perline. Ripasso nella terza perlina per andare a realizzare un altro step in herringbone. Quindi altre due rocaille 11.0 e rivado nella quarta perlina andando verso il basso. Adesso ripasso nella terza perlina accanto. Riscendo nella seconda e risalgo ovviamente in queste due. Questo è il risultato. Vedete? Ho realizzato esattamente tre righe in herringbone. Adesso dove è presente l'ovalina siccome andremo ad alternare una volta l'ovalina dal lato destro e una volta l'ovalina dal lato sinistro della lavorazione. Quindi dove è presente adesso l'ovalina andremo ad inserire 10 rocaille 11.0. Quindi 10 rocaille e mi rinfilo nella seconda perlina andando verso il basso. Poi mi rinfilo anche nella terza rocaille andando verso l'alto e a questo punto andrò ad inserire l'ovalina. Quindi un'ovalina e due rocaille 11.0. Ed eccole qua. Le porto alla fine del filo. Sono gli stessi passaggi di prima. Ripasso solamente nell'ovalina e nell'ultima rocaille 11.0. ed ecco qua. Adesso devo risbucare ovviamente da questa perlina qui dall'altra parte quindi ripasso in questa rocaille. Ripasso nella terza andando verso il basso e risalgo ovviamente in questa rocaille e nelle prime 5. 3, 4, 1, 5. Vi eccomi. Questo è il risultato. Ho realizzato esattamente 15,8 cm di bracciale utilizzando esattamente 13 ovaline. E questo è il risultato. Ve lo mostro da vicino e questo è appunto il risultato. Come vedete qui nel lato già ho realizzato la parte finale per poter raggiungere il muschettone. Adesso andremo a fare la stessa cosa anche ovviamente dall'altra parte dove andrò ad agganciare questa piccola estensione di catena con questa perlina in onice da 6 mm e questo graziosissimo charms sempre in acciaio. Quindi andiamo a realizzare questa parte finale. tolgo il metro, ecco qui, e vado a fuoriuscire esattamente dalla seconda perlina. Vedete il filo fuoriesce appunto dalla seconda perlina. Inserite due rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate nella terza perlina e anche in quella sotto, in queste due. ed ecco qua. Adesso rientrate nella perlina accanto e rientrate in tutte e tre queste perline. In tutte e tre. Di nuovo due rocaille sul nostro ago e rientro nelle ultime due perline, in queste due. le aggiusto e risalgo ovviamente in queste tre perline. Adesso tre rocaille sul nostro ago e rientro nuovamente in queste ultime tre perline. aggiusto le perline e ripasso nuovamente nelle perline queste qui laterali per rientrare nuovamente in queste tre perline e fissarle bene alla lavorazione. Quindi ripasso in questi ultimi passaggi per andare ovviamente a bloccare per bene queste tre perline. Poi ripasso in tutte queste perline qui, andando verso il basso, in modo che mi rinfilo anche nell'ovalina. Mi rinfilo in queste perline qui laterali, in modo che ripasso all'interno del bracciale e posso ovviamente tagliare il filo in eccesso. Il tutorial termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte! Ciao a tutti!